Azione! Tua mia figlia è una serie in quattro puntate molto tesa e molto emozionante che racconta la storia di un rapimento di una ragazzina di 16 anni e di tutto quello che gira intorno a questo rapimento ed è un giallo thriller molto emozionante, molto interessante. Questa fiction interpretò Anna Cavani, funzionaria della squadra mobile l'ispettore che seguirà tutta l'indagine di questa drammaticissima storia è una donna molto forte, molto solitaria con un passato abbastanza drammatico a livello professionale perché pur avendo lei un amore viscerale per quello che fa purtroppo si lascia cadere ai sentimenti e quindi verrà seriamente punita. Io sono Sabina, sono la moglie di Claudio, appunto Claudio Mendola che vive questa sofferenza della perdita della sua bambina e il grande risultato non è solo di un bellissimo cast di grandi attori, di bellissimi attori ma soprattutto ad una grande regia quindi grande azione, grande suspense quindi un bellissimo montaggio e quindi sì, sono felice perché forse era una parte nella mia carriera di attrice che mi mancava, un'esperienza che mi mancava. Ciao amici di iVid, guardate dov'è mia figlia Ciao ad iVid dal mio vocione Un bacio, oltre che un ciao, a iVid E un saluto ad iVid e a chi vi segue Ciao Ciao a tutti di iVid e vi aspetto sul canale 5 l'8 di settembre per Dove è mia figlia Ciao Ciao